Nella Calabria, dove la precarietà e il tratto distintivo delle giovani generazioni, c'è una schiera di alti burocrati costretta a fare i conti con una situazione lavorativa poco stabile. Si tratta di direttori generali della regione, tutti inquadrati con la qualifica di reggenti. In base alla legge regionale, la struttura organizzativa della giunta regionale è articolata in macro strutture di vertice denominate dipartimenti, che a sua volta sono ripartiti in settori. I dipartimenti sono strutture complesse, istituite per lo svolgimento di attività di programmazione, amministrazione e controllo. Ad ogni dipartimento segue poi, come da norma, una dirigente generale, quale figura di vertice, con la funzione di coordinamento e raccordo con gli organi politici. La nomina dei DG avviene secondo le procedure fissate da un regolamento e a questo ITER la regione ha fatto ricorso solo per la nomina del segretario generale del DG del Dipartimento Sanità ed è la primo dirigente generale del Dipartimento Presidenza, successivamente nel 2016 per il Dipartimento Ambiente e Urbanistica e nel 2017 per quello Organizzazione e Risorse Umane. Ad oggi però sono titolari di nomina soltanto il segretario generale e il DG della Sanità, ma con nomina formalizzata quasi a fine legislatura. Per il resto tutti precari, addirittura due dirigenti reggono due dipartimenti ciascuno, Presidenza Infrastruttura e Turismo e Cultura.